Si laurea in legge e si trasferisce in Inghilterra, dove si diploma alla London Film School. Qui crea la società di produzione La Regole du J.E.U., insieme col regista e produttore Baba Chialali. Dopo aver realizzato numerosi cortometraggi come regista, sceneggiatore e produttore, esordisce nel lungometraggio col documentario Eat the Road, Nonna, 2011, che riceve una menzione speciale ai Nastri d'Argento 2012 e vince il premio del pubblico al 52esimo Festival dei Popoli. Nel 2014 realizza il suo primo lungometraggio di finzione, Short Skin, sviluppato all'interno di Biennale Collegio Cinema, che vince il ciac d'oro come miglior opera prima. Il premio Mario Verdone al Festival del Cinema Europeo di Lecce. Il Grand Prix al Festival du Film de Cabourre. Nel 2015 realizza il documentario Settembre e nel 2016 la serie di documentari web Stazione America per il Periodico Internazionale.